Poesia del giorno, 23 marzo 2020. Ho pensato in questi giorni ad un autore che a scuola avremmo studiato, adesso vediamo se riusciremo effettivamente a farlo, non semplicissimo ma grandioso, che è Eugenio Montale, che sicuramente vi ho un po' nominato. Ho pensato, sto pensando, anche perché poi ci penso di giorno in giorno a quale poesia... in realtà non ci penso molti giorni prima a quale poesia proporre. L'idea di farvi sentire più poesie di Montale, anche due, tre, quantomeno, proprio anche per onorare un po' la grandezza di quest'autore. Vi volevo un po' mettere, come dire, sull'attenti su questo poeta. Chi è Eugenio Montale? E' un autore che porta, possiamo dire, un po' alle estreme conseguenze quel concetto che c'eravamo detto di crisi esistenziale, di crisi, di rapporto difficile, come diceva Moravia, con la realtà. Lui dice, di fatto, io fin dalla mia nascita ho sentito una totale disarmonia con la realtà che mi circonda e quindi la materia della mia ispirazione non poteva che essere quella disarmonia. Chiaramente incide tanto, incidono tanto i mutamenti storici e le guerre che Montale va a vivere. Una partecipa alla Prima Guerra Mondiale, aveva intorno ai vent'anni, intorno ai vent'anni, e assisterà anche alla seconda. La poesia che vi voglio leggere oggi è proprio scritta alla vigile, che è in maggio del 39, siamo alla vigile proprio dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale che stiamo di fatto studiando, perché poi la guerra scoppierà a settembre e qui lui accenna proprio ai preparativi. La poesia di Montale, dicevo, indica questa disarmonia con la realtà. Montale è quello che scrive, quello che noi possiamo dire, noi poeti, in questo momento di crisi della poesia, è soltanto ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Montale, tra l'altro, è uno dei primi autori che recensisce, che studia, per esempio, il Crepuscolare e che studia Sbarbaro. Sbarbaro è quello che abbiamo visto della poesia del sonnambulismo, la poesia in cui lui dice, chiede all'anima di tacere, ma di tacere perché il suo sarà un silenzio di morte, il silenzio di un'entità ormai inattiva. Eppure c'è una grandezza in Montale. La grandezza in Montale è che in questo marasma, in questo caos novecentesco, storico, politico, sociale, intellettuale, Montale è sempre alla ricerca di uno spiraglio di luce, sempre alla ricerca di simboli vivi. La sua è una poesia che possiamo definire un po' allegorica, un po' per intenderci come Dante. Tra l'altro, chi lo avvicina a Dante è una donna, Irma Brandeis, e allegorica significa, se vi ricordate, la mia esperienza, l'esperienza di Dante, l'esperienza di salvezza di Dante, che percorre l'inferno, il purgatore e il paradiso, è la stessa esperienza di salvezza dell'intera umanità. Allegoria significa dico altro, all'ossa gorevo, dico un'altra cosa attraverso quello che sto dicendo. Cioè attraverso la mia poesia io mi riferisco non soltanto a me stesso, ma di fatto all'intera umanità. Qual è questo simbolo vivo che può salvarmi? Io mi trovo in una stanza, ecco per il titolo della poesia si chiama Nuove Stanze, mi trovo in una stanza con la mia donna, e fuori ci sono i preparativi della guerra. Siamo nel maggio del 39. Quello che in quel momento mi può salvare è lo sguardo d'acciaio della mia donna. Lui sta giocando a scacchi con la donna, che nel mentre fuma una sigaretta, il fumo sta creando una specie di città ideale, di città virtuale, ma ideale, cioè bella in cui vivere, e gli scacchi rappresentano proprio di fatto la battaglia. Si chiama Nuove Stanze perché riprende una poesia passata, che si chiama Stanze, in cui Montale si era chiesto ma può una donna salvare? Può lo sguardo della donna essere più forte della guerra? La risposta inizialmente era stata no. Come può uno sguardo così debole salvare rispetto alle armi, rispetto alla guerra, rispetto ai carri armati? Adesso invece capisce che lo sguardo è d'acciaio. È felice colui che può contare sullo sguardo della donna. Il punto è sempre quello, ragazzi, probabilmente. è la capacità di saperlo allargare il nostro sguardo. Perché se la realtà ci dice una cosa in questo momento, se la realtà ci dice guerra, se la realtà in questo momento ci sta dicendo quarantena e coronavirus, il punto è trovare un simbolo vivo nella nostra vita. E Montale ti dice essenzialmente questo. Ecco perché poi vorrei leggere un'altra, forse ancora più famosa di Montale, magari domani, che ho sceso tanto di libraccio almeno un milione di scale. Oggi volevo leggere questa. Che nuove stanze! Poi che gli ultimi fili di tabacco al tuo gesto si spengono nel piatto di cristallo, al soffitto lenta sale la spirale del fumo che gli alfieri e i cavalli degli scacchi guardano stupefatti. E nuovi anelli la seguono, più immobili di quelli delle tue dita. La Morgana che in cielo liberava torri e ponti e sparita al primo soffio, s'apre la finestra, non vista, e il fumo si agita. Là in fondo, al trostorno si muove, una tragenda d'uomini che non sa questo tuo incenso nella scacchiera di cui puoi tu sola comporre il senso. Il mio dubbio di un tempo era se forse tu stessa ignori il gioco che si svolge sul quadrato e ora ennembo alle tue porte. Follia di morte, non si placa a poco prezzo se poco il lampo del tuo sguardo, ma domanda altri fuochi, oltre le fitte cortine che per te fomenta il dio del caso quando assiste. Oggi soccio che vuoi batte il suo fioco tocco la Martinella ed impaura le sagome d'avorio in una luce spettrale di nevaio, ma resiste e vince il premio della solitaria veglia chi può con te allo specchio ustorio che acceca le pedine opporre i tuoi occhi d'acciaio. Siamo in grado di allargare il nostro sguardo, siamo in grado di trovare nella nostra realtà quotidiana un simbolo vivo che può essere una persona, può essere un ricordo, può essere la nostra fantasia, può essere qualunque cosa però per noi, che a noi però ci dia la possibilità di comporre il senso di quello che stiamo vivendo.